buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 2 febbraio 2024 2 febbraio la candelora la candelora è un evento particolare per quanto riguarda anche le previsioni del tempo si dice sempre candelora dall'inverno sebo fora ma se piove e tira vento dell'inverno saremo dentro e beh insomma è un detto popolare che preannuncia un po l'evoluzione del tempo nel mese di febbraio comunque l'inverno è ancora nel centro del suo rigore il suo rigore atmosferico quindi non è vero affatto che dall'inverno siamo fuori insomma siamo ancora perfettamente dentro e oggi vediamo intanto che cosa si festeggia ed è un evento non è un santo eccolo qua è la presentazione del signore al tempio era usanza degli ebrei consacrare il primo genito a dio e ricordo di quanto è stato fatto durante la detenzione degli ebrei in egitto quando poi nel momento dell'esodo è arrivato l'angelo che ha preservato i primogeniti degli israeliani mentre quelli degli ebrei morirono ebbene fu in questa circostanza che con il vecchio simeone quella della presentazione al tempio di gesù bambino si ebbe il primo riconoscimento pubblico che gesù era il salvatore era il messia ora posso morire tranquillo ha detto simeone perché ho visto con i miei occhi il salvatore del mondo ed ora passiamo alle previsioni del tempo dura ancora l'alta pressione su tutta la regione Marche bel tempo con sole splendente per l'intera giornata i venti saranno al mattino moderati da ovest nord ovest al pomeriggio moderati da nord ovest mare poco mosso a temperatura 2 la minima 8 la massima e il sole sorgerà alle 7 e 25 e tramonterà alle 17 e 16 ed ora apriamo i giornali e vediamo l'apertura la notizia del giorno quella di ieri ovviamente l'inaugurazione dell'impianto notatorio nuotiamo realizzato dalla fondazione cassa di risparmio e che sarà dato poi in concessione incomodato gratuito per 30 anni all'amministrazione comunale di Fano ecco il titolo che appare sul resto del Carlino taglio del nastro tra giochi di luci ecco la piscina gioiello della città e vediamo anche come riporta la notizia il Corriere Adriatico la nuova piscina bella ed efficiente l'onere più grande spesi l'onere più grande sostenuto dalla fondazione ovviamente spesi oltre 7 milioni di euro il presidente della fondazione Giorgio Gragnola ha accolto gli ospiti in video il ministro Abodi insomma doveva essere presente il ministro dello sport ma è stato trattenuto a Roma perché in Quirinale è stato ricevuto Sinner, Gianni Sinner insieme a tutti gli altri tennisti che hanno vinto la Coppa Davis quindi è stata una cerimonia a cui doveva essere presente anche il ministro il ministro comunque è intervenuto in video all'inaugurazione dell'impianto fanese ne ha magnificato tutti gli aspetti e tutte le funzioni e poi ha detto che verrà a Fano verrà a Fano per fare un tuffo lui stesso nella piscina comunque vediamo un po' come riporta la notizia il Corriere il resto del Carlino, non il Corriere, dopo vedremo anche il Corriere ebbene c'erano tutte le autorità della regione Marche a partire dal presidente Acquaroli c'era il prefetto, il signore Greco, poi c'erano anche il sindaco ovviamente con molti esponenti della politica locale, c'erano gli assessori regionali insomma tante autorità insieme ad altre 300 persone che sono state ammesse alla inaugurazione di questo bellissimo impianto con uno spettacolo suggestivo fatto in piscina dagli atleti del sincrono di Pesaro e poi anche da un gioco di luci che ha dato ancora più suggestione alle linee architettoniche della piscina stessa gli interventi si sono susseguiti a partire ovviamente da quello iniziale del presidente della fondazione Giorgio Gragnola il quale ha ricordato un po' questi 4-5 anni di patema per realizzare questo impianto che è stato lo sforzo economico più rilevante compiuto dalla fondazione Carifano ci sono stati dei contrasti ovviamente in tutto questo periodo si è susseguita la pandemia si sono susseguiti gli aumenti delle materie prime gli aumenti dei costi le due guerre che ancora sono in atto quella della Ucraina e quella del Medio Oriente insomma difficoltà una dietro l'altra e ha detto Gragnola ci è voluta tutta la mia tigna per portare a termine insieme alla determinazione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Soci per portare a termine questo progetto ed ora ci sarà ancora una piccola pausa per mettere a punto gli ultimi addempimenti come per esempio quello della clorazione dell'acqua l'operazione della clorazione e poi anche quella di mettere a punto il software che mette in azione i tornelli per l'ingresso in piscina soprattutto è stato rilevato anche l'aspetto sociale oltre a quello sportivo di questo impianto perché tra le vasche una bella da 25 metri poi altre due più piccole per altre funzioni c'è anche una vasca per la riabilitazione e quindi c'è anche un aspetto socio-sanitario che è insito nella funzionalità dell'impianto insomma tra il 25 e il 26 l'impianto sarà reso pubblico e tutti potranno godere di questa nuova opportunità nella città di Fano ed ora cambiamo notizia vediamo a fondo pagina un avvenimento per quanto riguarda la politica e la campagna elettorale Forza Italia insiste Aguzzi candidato sindaco è una evoluzione questa di quanto si parla di quanto si tratta delle contrattazioni tra i vari partiti in questo caso all'interno del centro-destra Forza Italia insiste Aguzzi candidato sindaco la posizione è emersa nell'incontro con il governatore Acquaroli che ha un po' consultato tutti gli esponenti politici per accelerare i tempi ed individuare un candidato sindaco che possa rappresentare tutta la coalizione ma il partito ribadisce fondamentale l'unità del centro-destra ebbene Forza Italia continua a spingere sulla candidatura sindaco di Stefano Aguzzi anche se considera fondamentale l'unità del centro-destra e poi che cosa accade sempre a margine del centro-destra è una posizione quella di Giuseppe De Leo che è un divoga un po' di centro-destra ma anche con qualche possibilità di accordo con il centro-sinistra lo evidenzia appunto il resto del Carlino nel frattempo il candidato sindaco Giuseppe De Leo che rappresenta un po' un aspetto dell'area civica prende le distanze dalla destra o meglio dalla Lega e da Fratelli d'Italia e apre a tutti coloro compresi i progressisti e centro-sinistra che vogliono confrontarsi sui programmi e chiedono discontinuità rispetto all'attuale amministrazione attuale amministrazione di cui De Leo non condivide soprattutto la strada di Gimarra che ormai si è persa tra le nubi della burocrazia e poi non condivide il futuro di A-Z il piano regolatore l'azienda dei servizi e la persona insomma sono momenti sono elementi fondamentali di scelte che ha fatto il centro-sinistra e quindi insomma affonda il coltello veramente nel centro delle discussioni rubano monetine al bar e allora passiamo alla cronaca arrestati e rilasciati sono due ragazzi due ragazzi un diciottenne ed un diciannovenne che avevano così passato una serata un po' diversa dal solito pensando di fare delle bravate ma non sapendo che sarebbero in corso veramente in veri e propri reati sono due ventenni che abitano a Marotta ieri sono stati interrogati dal GIP hanno risarcito e chiesto scusa disposto all'obbligo di firma dei carabinieri che cosa hanno fatto questi ragazzi ebbene sono entrati di notte in una gelateria al centro del paese dove hanno trovato un telefonino spaccato un erogatore di palline per bambini in modo da raffare pochi spiccioli vedete come sono state veramente degli atti così determinati da una voglia di fare delle bravate ma in realtà poi sono resi conto di quello a cui andavano incontro vediamo anche le altre notizie c'è un articolo che riguarda uno studio fatto dalla CNA sulla zona industriale di Bellocchi un piano di potenziamento costituire che è un consorzio ha detto l'associazione di categoria o rete tra imprese con protagonista il comune per dare alla zona industriale di Bellocchi quei servizi che attualmente ancora mancano bisogna potenziare la banda larga e riqualificare l'area urbana le strade soprattutto della zona industriale usurate dal continuo passaggio dei grossi tir dei camion con delle auto che continuamente percorrono tutta la zona industriale tra la superstrada Fano Grosseto il centro città appunto e questa zona produttiva di rilevante entità un piano particolarizzato dato che l'area industriale di Bellocchi ha 130 aziende 6.520 dipendenti e 15.000 veicoli che entrano ed escono ogni giorno ebbene bisogna migliorare lo ripeto la funzionalità delle strade potenziare la banda larga e riqualificare la luminazione pubblica e degli spazi verdi anche per dare un po' di dignità estetica alla zona industriale che deve anche rappresentare l'immagine della città di Fano sul fronte dell'economia e dei rapporti anche con le altre regioni italiane e con gli altri paesi esteri ed ora passiamo a Colli al Metauro a Colli al Metauro abbiamo un articolo di apertura per quanto riguarda il furto presumibile il presumibile furto di quattro libri nel museo Churchill forse non tutti sanno che a Monte Maggiore al Metauro esiste un museo dedicato a Winston Churchill Winston Churchill che durante il secondo conflitto mondiale dall'alto del colle di di Monte Maggiore osservò la linea la linea del fronte tra gli alleati e i tedeschi che si stavano poi ritirando verso la linea gotica che è nella valle del Foglia comunque un mistero che è stato denunciato dalla direttrice tecnica della struttura la dottoressa Marta Marchetti si tratta detto di quattro libri che erano a disposizione del pubblico per essere consultati ma che in realtà sono spariti e spero che chi li ha presi li possa rimettere al suo posto ha detto la signora Marchetti si tratta del libro Churchill la vita politica e privata del grandissimo storico inglese Martin Gilbert e poi di Churchill nemico degli italiani scritto da Angelo Spinosa e ancora l'angelo di Churchill di Nicoletta Maggi e poi c'era anche una raccolta fotografica sul passaggio delle truppe polacche nelle Marche con immagini provenienti dall'Imperial War Museum di Londra è una delle istituzioni culturali che riporta insomma tutte le vicende poi sono anche tantissimi oggetti che risalgono alla seconda guerra mondiale Guardia Medi che è a mezzo servizio ancora per questo mese nell'entroterra nella Val Cesano un servizio importante che purtroppo non riesce ad assestarsi nel modo opportuno la situazione riguarda tre postazioni operative nei comuni della Val Cesano si tratta della Guardia Medica di Mondolfo che vedrà coperti 19 dei 37 turni totali pari al 51% poi quella di Pergola dove il dottore sarà presente solo 14 volte su 38 e quella di Mondavio che sarà attiva in 24 turni corrispondenti soltanto al 65% delle esigenze quindi anche qui insomma l'assistenza sanitaria non è delle migliori giriamo ancora la pagina siamo ad Urbino 100 candidati per fare l'autista dei bus a Urbino a sede Lami l'azienda dei trasporti pubblici vediamo che l'azienda soffre di carenza di personale in modo particolare di autisti e per questo ho dovuto sospendere anche alcune linee importanti dell'entroterra ora invece c'è tutta una ressa per ottenere questo posto che è un posto a tempo indeterminato ebbene 100 candidati per fare l'autista dei bus apre uno spiraglio dopo l'assenza dei conducenti per ripristinare veramente l'organico in modo che tutto il servizio possa essere efficiente e rispondente alle esigenze dei trasporti e l'unione tra la costa e l'entroterra e infatti vediamo qui in quest'altro articolo gli effetti della carenza di autisti Adria Bus taglia le corse più lontane Rossi protesta è inaccettabile Rossi è il consigliere regionale dei civici che si appella all'assessore ebbene Rossi interviene sul taglio della corsa dei bus verso l'entroterra ebbene un taglio che sta creando veramente delle grosse difficoltà c'era anche la promessa di ripristinare la linea non appena gli autisti non appena si fossero reperiti gli autisti ed ora abbiamo visto come l'Ami si sta l'Adria Bus si sta dando da fare l'Accademia apre le sue porte Open Day nel nome dell'arte domenica 4 e 5 febbraio si potranno visitare i laboratori mostre e allestimenti e poi c'è anche un incontro con i docenti ed è l'Accademia delle Belle Arti di Urbino a Sasso Corvaro invece ancora difficoltà per l'ospedale Lanciarini dove a cui i fondi vengono tagliati la regione purtroppo nega i soldi promessi ed è il consigliere regionale Andrea Biancani del Partito Democratico che attacca la giunta a Quaroli budget ridotto di ben 4 milioni di euro e quindi anche l'ospedale Lanciarini soffre di una carenza per l'assistenza sanitaria Montepetrano in evidenza arriva la Tireno Adriatica la soddisfazione degli ultimi gestori di un ristorante qui siamo stati abbandonati da tutti dagli anni 60 in poi non è stato fatto niente per noi e qui vediamo i due protagonisti Cristian Rocchetti con la sorella Simona del ristorante Il Grillo di Montepetrano che evidentemente esultano perché c'è questa Tireno Adriatico che potrà dare un po' di linfa alla loro azienda e quindi passiamo all'esame del Corriere Adriatico abbiamo visto l'articolo che riguarda l'inaugurazione della piscina l'onere più grande della fondazione Carifano spesi oltre 7 milioni ed ora invece diamo spazio alla repica dei sindacati intorno alla presa di posizione degli educatori pedagogici che si erano dissociati dall'accordo stipulato appunto tra i sindacati e l'ambito sociale numero 6 Cigelli e Cisle rispondono agli educatori pedagogici tuteliamo il personale ebbene sono stati sconfessati in realtà i sindacati in merito a quanto concordato con l'amministrazione comunale le organizzazioni sindacali firmatari del contratto nazionale della cooperazione sociale non sono state così gradite per quanto riguarda i loro associati ed ora si cerca di ricucire in questo senso appunto i rapporti tra i vertici e la base insomma è un atto in fieri in esecuzione centrodestra resta lo scoglio per Serfilippi Forza Italia Guzzi il candidato più forte anche il Corriere Adriatico interviene su questa uscita di Forza Italia che insomma non vede molto bene la candidatura di Luca Serfilippi che è il candidato della Lega per rappresentare l'intero l'intera coalizione di centrodestra meglio Stefano Guzzi più esperienza e la possibilità di raccogliere anche voti insomma tra il centro e il centrosinistra un po' qualcosa può ragranellare anche lì Aguzzi e quindi un rappresentante meglio adatto per far vincere il centrodestra secondo Forza Italia Bellocchi è da riqualificare a cominciare dalla viabilità la CNA chiede la costituzione di un consorzio di imprese per l'area artigianale vediamo anche la pagina della Val Cesano siamo a Frontone strade devastate per il Catria la ricostruzione passa dall'ANAS alla provincia i sindaci contano su interventi celeri entro il mese l'affidamento della progettazione e ci sarebbero anche fondi a disposizione per intervenire sulle dissesto delle strade e vediamo anche la pagina di Senigallia dove si parla di cronaca una rapina in centro falso allarme versati i due milioni della maxi evasione ebbene lo Stato ha incassato i due milioni di euro che erano stati sequestrati ad una azienda la Fast & Clean la quale aveva compiuto una maxifrode fiscale scoperta dalle guardie di finanza appunto di Senigallia tutte cinesi erano le persone che sono state denunciate 85 persone nel corso dell'operazione coordinata dalla procura di Ancona sono stati sequestrati ad una organizzazione cinese beni e conti correnti per 350 milioni di euro oltre quasi due milioni di euro in contanti frutto di evasione fiscale e riciclaggio veramente un'operazione estesa anche su tutto il territorio nazionale che aveva appunto il suo fulcro nella città di Senigallia e non puoi andare a ballare con le amiche no no io te lo vieto è un ragazzo di 19 anni un romeno che negava tutta la libertà alla sua fidanzatina che era una minorenne ebbene è stato fermato questo stalker braccialetto elettronico e quindi divieto di avvicinare la ragazza la perseguitava tra divieti botte e minacce addirittura era arrivato a minacciare anche la famiglia il padre la madre e il fratellino di questa ragazza ora ha avuto il divieto di avvicinamento e vediamo ora le notizie anche di Pesaro dove si parla del cavalcavia dei Capuccini cavalcavia più sicuro con le nuove barriere il cantiere ai saluti ai primi di marzo finalmente si chiude questa complessa partita della riqualificazione del cavalcaferrovia l'intervento ora si concentra sulla rampa d'accesso poi seguirà l'asfaltatura e come è solito fare il Corriere Adriatico in questa tabella riassume un po' tutte le fasi complesse e lunghe di questo procedimento entro marzo dunque la conclusione definitiva del cantiere un intervento di 3 milioni di euro interamente finanziato dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso un bando che è stato vinto dall'amministrazione comunale di Pesaro nel 2021 il cantiere segue quello da 313 mila euro che il Comune ha concluso nel 2019 era un precedente intervento che è stato realizzato la conclusione stimata di tutti i lavori dovrebbe essere quella della prossima primavera quindi non manca molto per la conclusione del progetto vediamo anche la notizia che riguarda il San Benedetto questo è un altro progetto che si dilunga nel tempo slitta ancora il maxi appalto rinviata l'assegnazione dei lavori ancora non c'è la commissione che valuta vediamo anche come aumentano le rette nella casa di padre Damiani rette più care secondo aumento in un anno la direttrice della casa di riposo Angela Polselli dice il ritocco è inferiore alla rivalutazione delle pensioni insomma si alzano le pensioni ma poi se ne vanno perché poi aumenta il caro vita e aumentano anche le rette e questo certo non giova per l'assistenza agli anziani vediamo anche la pagina di Urbino bene Forza Italia in provincia ora faccia altrettanto a Urbino si parla del ritiro della provincia di una rappresentante di Forza Italia ora tutto si rientra nel gioco del centro-destra le minoranze plaudono all'uscita della maggioranza ma su riceci chiedono coerenza anche per quanto riguarda questo argomento e con questa notizia noi chiudiamo i giornali terminiamo la nostra rassegna stampa volonga perdete il TG di Fano TV questa sera alle ore 20.30 per le notizie del giorno e intanto io vi do appuntamento alle 7 di domani per una nuova rassegna stampa grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti grazie a tutti